Giacomo Cusmano si laurea nel 1855 e inizia l'attività rivelandosi subito un medico competente e preparato. Ma è soprattutto la sua generosa disponibilità ad attirare la gente più bisognosa di Palermo e dei paesi vicini. Non sarà troppo presto. Salve amici, vengo subito. Nessuno bussa alla sua porta senza trovare la sua carità. L'ammalato per lui non è un caso clinico, ma un fratello bisognoso di aiuto e per questo va guardato con attenzione e amore. Questa sua sensibilità lo porta sempre più spesso nei quartieri più poveri di Palermo. Sai infatti che lì dove nessun medico vuole andare c'è molto più bisogno del suo aiuto. Agli occhi di Dio gli uomini sono tutti uguali e hanno un unico destino che li accomuna. E Giacomo è troppo sensibile e intelligente per non sapere che di fronte al mistero della morte vale solo la solidarietà e l'aiuto reciproco. La grande passione per la vita lo porta al capezzale di ogni ammalato, pago solo del dono che offre. Commenta così i suoi successi professionali. Io li ho solo curati, mentre Dio li ha guariti. Va bene. Quanto le devo? No, 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 no. Per favore, prenda. Servono più a voi. Oh, scienza, grazie. No, no. Mi stia bene. Buongiorno. Che il signore ve lo renda nella salute. Buongiorno. Dottore! Dottor Cosmano! Dottore, ferma! Dottore! Dottor Cosmano! Ferma! Ferma, la prego! Dottore! Mi dica, signora. Presto, dottore! Mio marito, dottore, mio marito è stato ferito Non dia retta, dottore. Non scenda, è pericoloso. Oh, per carità, dottore. Ah, sì? Non è altrettanto pericoloso lasciar morire una creatura? Oh, grazie. La fede tenace lo porta a percorrere le lunghe distanze che separano i vari casolari dispersi nella campagna palermitana. Tutti lo stimano e lo apprezzano, ma egli non si sente realizzato. è convinto di dover fare di più, soprattutto per i più bisognosi. Molti dubbi iniziano ad insinuarsi nella sua anima di fronte al contrasto stridente tra la ricchezza di pochi e la miseria dei più. Giacomo vuole capire. Il male fisico come quello morale, l'ingiustizia sociale e la depravazione non possono essere soltanto il frutto di situazioni sfortunate. Sono la negazione dell'uomo. Sono il silenzio di Dio. Com'è possibile credere? Beati i poveri, perché di loro è il regno dei cieli. Beati i puri di cuore. Beati coloro che hanno fame. Beati coloro che vengono perseguitati. Beati i poveri. I poveri li avrete sempre con voi. Li avrete sempre con voi. Come conciliare beatitudine e miseria? Come liberare nell'uomo le fattezze del volto di Dio? E che senso ha un Dio che si fa uomo? Un Dio che si fa carne e pane? Prendete e mangiate. E mangiarono tutti. E allo spezzar del pane lo riconobbero. Quando l'uomo spezzi il pane si riconosce. Quando l'uomo spezzi il pane si salva. Buonasera Giacomo. Ciao Vincenzina, ciao. Hai fatto tardi? Ti vedo stanco. Quando deciderai di lavorare un po' meno? Quando avrò deciso a che fare della mia vita deciderò anche se lavorare di più o di meno. Giacomo. Non mi basta più. Non mi basta più curare la ferita di una fucilata. vorrei curare il male che induce una povera creatura a sparare ad un suo semile. È molto vero quello che dici. Giacomo, hai pensato al consiglio di Monsignor Turano? Di consacrarti a Dio? Non credo di esserne degno. Ma poter avvicinare la gente e parlar loro di Dio forse... può bastare ad un umile frate questo ante. Certo, ma per rendere al povero un servizio totale, morale, spirituale, consacrarsi a Dio è la cosa più... più grande. Il 22 dicembre del 1860, Giacomo Cusmano è ordinato sacerdote e gli viene assegnato l'umile compito di rettore della Chiesa dei Santi 40 Martiri al Casalotto. Scrive nelle sue memorie. Chiamato all'ultima ora ed elevato al volere di Dio al sacerdozio, sentii nell'anima il desiderio di consacrarmi ai poveri per sollevarli dalle miserie e avvicinarli a Dio. Come pastore, inizia a percorrere i vicoli della sua Palermo, a perpetuare la missione del Cristo, consolando, aiutando, spezzando il pane, proclamando a tutti che il regno di Dio è arrivato, perché ai poveri viene annunciata la buona novella. I mille volti della povertà si rivelano ai suoi occhi. Sono volti che chiedono giustizia, non elemosina. Chiedono carità, non compassione. Padre Giacomo entra in queste case per rispondere concretamente alle tante richieste materiali e spirituali che gli vengono rivolte. E per essere subito disponibile ad ogni chiamata. La notte dorme vestito. Padre Giacomo, grazie di essere venuto. Voglio confessarmi. Nella mia vita ho peccato. Abbi fede, figliola. La tua fede ti salverà. Gli anni che seguono l'unità d'Italia, nonostante le tante speranze e aspettative, portarono al proletariato siciliano solo fame e miseria. A Palermo intere famiglie, senza più nulla da mettere sotto i denti, si lasciavano morire di fame e di inedie. Un giorno, passando davanti ad un tugurio, vide con disgusto che un'intera famiglia stava divorando la carcassa di un cane crudo. Cosa fare di fronte a tanta miseria? Dove trovare il cibo per sfamare tanti miserabili? Ricorda che in casa dell'amico dottor Michele De Franchis, tutti i componenti della famiglia, anche i più piccoli, si privano di parte del loro cibo per assicurare ad un povero un pasto completo. Chiamavano questo gesto il boccone del povero. E questa tradizione semplice diventerà il fondamento di tutta la sua opera. Tenga, padre. I poveri sono i tesori di Gesù Cristo. Grazie. Per insegnare i ricchi a mettere a disposizione parte della loro abbondanza, si fa umile questuante. Il prestigio della sua persona, la dolcezza e la decisione dei suoi modi, gli aprono porte inviolate. L'Evangelico, bussate e vi sarà aperto. Si fa realtà consolante. Ristoratevi, buona donna. Il buon Dio si ricorda sempre di voi. Grazie. A mano a mano che l'opera progredisce, molte persone sensibili si affiancano a lui. Sono signore dell'alta società palermitana, professionisti illustri, personalità religiose e civili. Ma anche gente più modesta sostiene l'iniziativa, intuendone la carica umana e apprezzendone il fondamento cristiano. Le offerte arrivano dai canali più disparati e vengono opportunamente confezionate e distribuite ai bisognosi della città. Nel 1869, nei locali della Chiesa dei Santi 40 Martiri, viene aperto un grande refettorio per i poveri e nello stesso tempo viene assicurata a 40 orfani un'assistenza continuativa e completa. Con l'aiuto della sorella Vincenzine, che anima il primo nucleo del boccon del povero, padre Giacomo perfeziona l'organizzazione della sua opera. Ma come spesso accade, anche il bene più gratuito è causa di sospetti e diffidenze. Devo vederci chiaro su questa faccenda. E come questore di Palermo, ho sentito il dovere di convocarla per avere spiegazioni. Ma cosa volete fare? Un nuovo monachesimo? Sì. Voglio dar vita ad un convento di storpi, di malati, di ciechi, di orfani. Voglio raccogliervi tutti gli accattoni che assiepano gli angoli e le vie di Palermo. Ma come potete fare questo senza aiuti, senza mezzi? Ci penserà la provvidenza. Per dare continuità alla sua azione, dopo mesi di preghiera, riflessione e verifica, padre Giacomo Cusmano completa il regolamento dell'Associazione del Boccone e del povero. Nel 1868 le autorità ecclesiali approvano ufficialmente l'opera. Ma questi aspetti burocratici non lo distolgono dalla sua azione. è sempre in prima linea a subbarcarsi con generosità ogni tipo di lavoro, affrontando tutte le situazioni di bisogno. Padre Giacomo. Avanti. Salvatore, a quest'ora qui. Scusate padre, ho incontrato Morello. Vieni avanti. Non ha un letto per dormire e mi sono ricordato che la carità è a San Marco. Hai fatto bene. Vieni Morello. Grazie Salvatore. Buonanotte padre. Buonanotte. Ma il suo operare non concepisce solo l'aiuto materiale, come dar da mangiare agli affamati o vestire gli ignuti. La sua è un'azione a tutto campo per promuovere l'uomo nella sua totalità, sia materiale che spirituale. Per questo non può tollerare lo sfruttamento della prostituzione, uno dei delitti più odiosi contro la dignità umana. Si batte con decisioni. Non può accettare che si faccia mercato del Tempio di Dio. Con il coraggio della fede, sottovalutando spesso i rischi che corre, riesce a raggiungere il fine di quella carità liberante voluta dal Cristo. Ma il troppo lavoro e le privazioni iniziano a minare il suo fisico. E un giorno mentre è in città per una commissione, viene colto da un improvviso malore. Dovete curarvi. Vi porto subito in ospedale. Non posso. I poveri mi aspettano. Dopo un breve periodo di riposo che gli fu imposto dalle autorità ecclesiali, torna al suo lavoro, fiducioso nella Madonna, alla quale si rivolge continuamente. Ma arriva il momento della prova. Sulla sua opera si abbattono critiche e calunnie. La scarsezza dei mezzi si fa sentire pesantemente e tanti collaboratori lo abbandonano. Padre Giacomo quasi non regge all'urto violento e pensa di affidare tutto a qualche comunità di suori o sacerdoti. Durante la notte, mentre sta scrivendo al vescovo la sua decisione di ritirarsi, piegato dalla stanchezza e dal dolore, si addormenta sui suoi scritti. E mentre dorme, sente la voce di colei alla quale ha affidato tutto il suo cuore. Figlio mio, la tua opera è accetta al Signore e prospererà al fine per cui è nata. Rincuorato da quelle parole, il 23 maggio del 1880, con l'approvazione del suo vescovo, può finalmente vestire le prime serve dei poveri. Ci sono voluti anni di sofferenza e di fatiche per veder realizzato questo suo sogno. Il suo cuore trabocca di gioia. Fra di esse c'è anche la sorella Vincenzina, che è stata più una madre che una sorella. E anche in questo momento, lei è vicina e lo segue. Durante la celebrazione, consegna alle nuove consacrate le regole di vita. Una croce che ricordi che non c'è salvezza senza sacrificio e un rosario. E' la nascita della congregazione delle serve dei poveri, che in poco tempo si diffonderanno per tutta la Sicilia, mettendosi al servizio dei bisognosi, primi destinatari della salvezza. Ma un'ennesima calamità si abbatte su Palermo. E' il colera. Il morbo di laga colpendo gente di ogni età. Molti anni prima, questa malattia era stata la causa della morte di sua madre. E conoscendone la pericolosità, non esita per salvare dal contagio i suoi assistiti ad affrontare le autorità. Signor sindaco, ho saputo che lei vuole impiantare l'ospedale dei colerosi nella casa dei poveri. Ebbene, ha qualcosa in contrario? Ma ne va della coscienza. Portare l'infezione nella casa dei poveri è una cosa grave. Padre Giacomo, l'ospedale dei colerosi si è sempre fatto in quel locale. Ma ora ci sono gli anziani e io non posso transigere che... Gli anziani sono suoi, ci pensi lei. Io come sindaco devo risolvere questa faccenda. Quegli infelici sono veramente miei perché la carità me li regalo. Ma il municipio di Val Guarnera deve provvedere alla loro tutela. Ma è lei il padre dei poveri. E io le dico che lei è il padre di un popolo intero dal quale i poveri non vanno esclusi. Il suo modo di affrontare i problemi è concreto. Le belle parole appartengono al mondo degli inefficienti e sono inutili. Così senza pensarci due volte decide, aiutato da alcuni volonterosi, di costruire un lazzaretto alle terre rosse. In questo modo le sue orfanelle colpite dal contagio potranno godere di una migliore assistenza e dedizione. Le serve dei poveri, animate dal suo esempio, si dedicano sprezzanti del pericolo alla cura e all'assistenza delle piccole ammalate. Stai calma figliolina. Voglio padre Giacomo. Voglio padre Giacomo. Eccomi figliola. Padre Giacomo. Abbi fede, guarirai, guarirai presto. Sensibile come un padre, pensa a tutto, anche al dono di una bambola. L'esperienza del medico sostiene la fede del sacerdote e dell'apostolo. Bene così. Vi raccomando sorelle, trattiamo questi tesori come le pupille dei nostri occhi. Buonanotte. Esce dal lazzaretto solo alla fine dell'epidemia, incapace di abbandonare gli ammalati anche un solo momento. Una grande fede alimentata dalla preghiera lo sostiene nella sua opera dura e faticosa. Ma il tanto seminare inizia a dare i suoi frutti. Il 4 ottobre 1884 i primi fratelli coadiutori ricevono l'abito religioso. Umili e nascosti, formati saldamente allo spirito missionario del fondatore, intraprendono con slancio la loro missione di servizio e di evangelizzazione. Il 21 novembre 1887 la sua opera si arricchisce ulteriormente. Nasce la prima comunità di sacerdoti missionari. Consegnando loro il crocefisso, padre Giacomo può salutare con gioia serena la grandezza delle opere di Dio, mirabili ai nostri occhi, con queste parole. Nostro scopo è alleviare la povertà, dissipare l'ignoranza, alleggerire la sofferenza, in una parola venire incontro ad ogni forma di bisogno. Volete vedere Gesù? Eccolo nei poverelli. Essi sono un altro sacramento. Ricordate i suoi insegnamenti. Tutto ciò che avete fatto al più piccolo dei miei fratelli, l'avete fatto a me. Avevo fame e mi avete dato da mangiare. Ero ammalato e mi avete curato. Ero ignudo e mi avete vestito. Ero triste e mi avete consolato. Questa è la via per la vera felicità. Il 14 marzo 1888, dopo un'esistenza vissuta per il prossimo, a soli 54 anni, lasciava questa terra. Padre Giacomo Cusmano è stato come il chicco di grano di cui parla Gesù nel Vangelo, che cadendo in terra per amore, ha portato frutti in abbondanza per il bene di molti. per aver dedicato tutta la sua vita a Dio e al servizio dei poveri, il 30 ottobre del 1983, la Chiesa lo ha posto fra coloro che avendo profuso in terra tanto amore e carità, sono ora nella luce della casa del Padre, per cantare in eterno la sua gloria. Non mi dimenticate nelle vostre preghiere e nel desiderio di rivedervi vi benedico nei dolci nomi di Maria e di Gesù. Raccomando i poverelli di Gesù Cristo affidati alle vostre cure caritatevoli. È fatto a Lui ciò che loro fate. a Lui ciò che loro fate.